18. Il presente. Che cosa significa vivere il presente? Commento. Significa vivere ogni esperienza costantemente, in ogni piega della giornata, consapevolmente, restando il più possibile coerenti a noi stessi. Non è la logica del carpe diem, in quanto, nella concezione antica, presuppone il non porsi alcuna domanda e quindi il non viaggiare all'interno di se stessi. I maestri vogliono invece che il presente che noi viviamo così spesso con indifferenza e non curanza, voltandoci più volentieri al passato e ispirandoci più volentieri al futuro, è quello che ha più importanza. Il presente, infatti, contiene in sé i frutti del passato e i germogli del futuro, ma, è questo molto più importante, ha in sé il nostro sentire più vero, il nostro io più reale, diverso, da quello di un attimo prima e diverso da quello che sarà un attimo dopo.